C'è una rana! Oddio dove? Sono morta! Amore vuole entrare! Guarda stavo aspettando che gli apri la porta! Ma il Tec la vuole baciare ha detto! Tec vuoi baciare una rana? Questo è il tuo momento bacia la rana! Nuova challenge! Nuova challenge! Kiss the frog challenge! No 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 no! Davvero uomo il Tec! Siamo di là! Brava brava! 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 E vai 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 sei libero! Madonna che salto! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Allora oggi siamo di nuovo qui con la family perché faremo una challenge! Chiù! Speriamo di cominciare tutto quanto! Volevo salutare delle persone che hanno lasciato l'hashtag Ciao Gianni Miao! Quindi sono quantissimi! WorldGamer è il canale! Ciao Francis! Ciao Marco Poglisi! Ciao! E Enzo Papalardo! Ciao! Ciao ragazze! Mi raccomando lasciate l'hashtag con scritto Ciao Gianni Miao che comparirà qua sotto! Qui! 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 Ok! Eh ne facciamo video e vi saluterò! Allora quello che faranno questa serie è innanzitutto andiamo a presentarvi con le persone! Ginevra! Elisa! Uuuuuh! Daniele! Uuuuh! Soltiamo alla new entry! Ilaria! Quello che andremo a fare oggi è la Flip Bottle Challenge! Allora avremo a testa 10 tentativi! E quindi quello che bisognerà fare è lanciare la bottiglia, farla roteare in aria e farla atterrare in posizione verticale! Cioè non deve cadere! Praticamente lanciare la bottiglia e non farla cadere! Cioè non farla cadere! Cioè allora la bottiglia la lanci qua è in aria e gira a te allora la bottiglia cioè poi la lanci e deve atterrare in piedi! Ok! Ok! E nel frattempo deve girare! E nel frattempo deve girare perché se atterra e poi gira non va bene! Ok! Quindi se sta in mano e gira non va bene! Quindi vedi... ehm... Oro! 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 Flip Bottle Challenge! Ok! Quindi ci vediamo tra pochissimo tempo di sistema avuto! Allora la prendi! Ragazzi adesso parte uno Allora Ginevra se non riesce dovrà fare una capriola Tocca Elisa Uno Tre Quattro No Vabbè adesso tocca il aria No 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 Siccome era veramente tanto 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 facile Per due professionisti e allora Sì Abbiamo deciso di fare la no-look flip bonon challenge Quindi dovremmo fare questo a poco di spallo bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale condividete commentate con l'hashtag ciao gianni miau che comparirà qua sopra e con scritto quello che volete che io dica lo dirò nel prossimo video e vi saluterò noi ci vediamo al prossimo video ragazzi è BOOM BABY BOOM BABY Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.